Con il segretario provinciale di CUB Trasporti cosa chiedete oggi qui davanti al Palazzo delle Aquile, voi lavoratori AMAT? Allora noi chiediamo il giorno certo dello stipendio, non ce la facciamo più, è una violazione. Noi vogliamo un giorno certo dello stipendio, non è possibile che lo stipendio lo pagano sempre quando dicono loro il 3, il 5, il 30 o il 7. Vogliamo un giorno certo e poi è inaspettata la cosa che da anni chiediamo il buono pasto e non abbiamo il buono pasto. In tutte le aziende hanno il buono pasto e noi non ce lo possiamo avere, non capiamo la motivazione. Noi chiediamo tra l'altro di essere ascoltati, abbiamo fatto delle procedure di raffreddamento e nessuno ci ha contattato, siamo stati anche in prefettura. Noi chiediamo interlocuzione e chiediamo il giorno certo dello stipendio. Da quanto tempo va avanti questa incertenza sull'accredito degli stipendi? Ma già da anni, da anni, io ricordo il 2011 che ci hanno pagato il 12 febbraio. Solitamente quando avviene il pagamento? Il pagamento dovrebbe avvenire dal 27 in poi fino al massimo il 30. Come tutte le altre municipalizzate? Un giorno certo però, a me non interessa il 27 o il 28, un giorno certo di questi giorni. Quali sono le vostre condizioni di lavoro su strada? Intanto abbiamo una città ormai finita come strada, come percorsi di autobus e il manto stradale è pessimo.